Mercoledì 21 ottobre 2020. Mancano 71 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno della bilancia. La chiesa ricorda Sant'Orsola. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Orsola. Il nome ha origine latina e significa orsa. Il numero porta fortuna è il 7, il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro. Accadde oggi. Il 21 ottobre del 1879 Thomas Edison testa la prima lampadina funzionante in modo efficace che resterà accesa per 13 ore e mezza prima di bruciarsi. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati il 21 ottobre ricordiamo lo scrittore Edmondo De Amicis e il chimico svedese Alfred Nobel. La citazione del giorno. L'unico periodo in cui la mia educazione si è interrotta è stato quando andavo a scuola. George Bernard Shaw. Dice il saggio. L'amore spesso comincia nello champagne ma finisce nella camomilla. Il bel paese. Nel cuore di Milano tra Corso Venezia e Via Palestro c'è un elegante palazzo in stile Liberty che al suo interno custodisce una curiosità che attira molti turisti e milanesi. È Villa Invernizzi e nel suo giardino si trova un pittoresco stormo di fenicotteri rosa. La colonia di fenicotteri provenienti da Africa e Cile venne introdotta qui nel 1979 dal proprietario di casa, l'industriale caseario Romeo Invernizzi. Da allora attira ogni giorno diversi curiosi che sbirciano nel giardino attraverso le inferriate questi eleganti e simpatici uccelli rosa.